L'organizzazione dell'impero di Carlo Magno, tra continuità e innovazione istituzionale. Sullo sfondo la cartina appena, diciamo, un po' trasparente del Sacro Romano Impero, così come si estendeva sotto appunto il potere di Carlo Magno. Anzitutto c'è da dire una cosa, che a Aquisgrana, che era una città che si trovava attualmente nel Belgio, se non sbaglio, Aix-en-Chapelle, è il nome alla francese, diciamo. Carlo Magno aveva la sua reggia e Aquisgrana è anche la capitale del Sacro Romano Impero. È posta, tra l'altro, in una posizione centrale e quindi ovviamente era il luogo migliore, insomma, per tenere sotto controllo tutta quanta l'Europa. Qui, per esempio, potete vedere la Cappella Palatina, che è parte della cattedrale di Aquisgrana, costruita da Carlo Magno intorno al 792 d.C. Praticamente lui era andato a San Vitale, a Ravenna, aveva visto questa chiesa, gli era piaciuta tantissimo, e aveva detto ai suoi architetti, «Fatemi, una chiesa simile a quella di San Vitale, di Ravenna». Una chiesa ovviamente che doveva essere sforzosa, tutta piena d'oro e di mosaici, che testimoniassero la grandezza dell'imperatore. Oltretutto voleva che, appunto, la chiesa fosse annessa al palazzo. Ecco, perché si chiama Cappella Palatina. Non so se sei andato a Palermo, anche a Palermo, ovvero c'è una Cappella Palatina. Però è quella di altri, insomma, di altri re. Praticamente dal palazzo poteva direttamente andare a questa cappella, senza neanche uscire, si può dire, solo con dei passaggi interni. Se andrete da Xan Chapelle potrete vedere questo. Palazzo, ecco. Il palazzo è da palazium, il termine che indicava precedentemente la corte, ricorda la residenza papale romana. Attorno al palazzo sorgono anche, diciamo, tante costruzioni. Qui nel centro dell'impero, vi dicevo, a Quisgrana. Qui avete, ecco, bellissimo, proprio tutta la cartina, con, qui scritto in francese, la chapelle, appunto, le terme. Del resto a Quisgrana si chiamava così per questo motivo. Era una città che era stata costruita dai romani. Quando i romani andavano con le regioni ai confini dell'impero, fondavano delle città dove si stanziavano i soldati, no? E spesso cercavano di ricostruire la città così come una sorta di accampamento e magari anche metterci le terme, se era possibile. E proprio ad Aquisgrana fondarono lì la città perché era possibile metterci delle terme. E quindi le terme continuano ad esserci anche nel periodo carolingio, dopo il periodo romano. Poi abbiamo la grande porta e, insomma, tutto quanto la sala del trono, il palazzo che si estende, ecco. Adesso vedete quei camminamenti che ci sono a sinistra e a destra della porta permettevano di passare praticamente dalla sala del trono alla cappella senza uscire. Quello è il discorso che vi facevo prima. Perché l'imperatore doveva, come dire, doveva apparire all'esterno solamente in certi, come dire, in certi modi, quindi attraverso cortei, processioni o manifestazioni pubbliche, eccetera. Quando invece doveva fare le sue cose senza essere visto da nessuno, doveva passare all'interno. Più o meno dovrebbe essere così. Ecco, stavamo dicendo delle figure che si creano attorno a questa corte. Ad esempio il cancelliere che presiede alla cancelleria, che compila e conserva gli atti legislativi imperiali. Gli atti legislativi imperiali sono detti capitolari, sono le leggi. Vedete c'è scritto il campo di maggio, perché questo potere era tutto basato sull'esercito, sull'addestramento. E quindi ci si trovava, appunto, viene chiamato così campo di maggio, c'era un'assemblea di signori laici ed ecclesiastici per prendere le decisioni, per fare le leggi. Erano i capitolari che dovevano essere poi diffusi in tutto quanto l'impero. Poi c'era il camerario, che era una sorta di tesoriere addetto all'amministrazione del patrimonio personale dell'imperatore. Ecco, non so se abbiamo studiato, ma anche i monaci avevano un responsabile proprio dell'amministrazione del convento. Ma la cosa più importante che a noi interessa è quella che vediamo qui in questa slide, proprio, cioè la divisione dell'impero in contee e in marche. Le contee erano circa 200. Ecco, i conti sono i comites. Infatti la parola conte deriva dal latino. Sono i compagni dell'imperatore, i compagni del re. Quelli, ovviamente, che l'accompagnano dove? Ma in guerra, no? Vi hanno detto che è tutto fondato sulla guerra. Lui fa tantissime campagne militari perché il suo potere stesso è fondato sulla guerra. Sono una parte dell'impero sotto il controllo... Le contee sono sotto il controllo dei conti, cioè dei vassalli più fedeli, dei compagni del re, che dovevano rappresentare il re, difendere il territorio, amministrare la giustizia. Faccevano parte di una contea, le terre imperiali, le terre dei privati e della chiesa, i signori fedeli e villaggi indipendenti. Ecco, quindi i conti poi andavano ai campi di maggio, quindi ogni anno si recavano presso l'imperatore per questa grande e importante assemblea. Poi ci sono un'altra parola che dovete conoscere molto bene, quindi non c'è purtroppo sulla slide, è la parola palatini. I palatini costituiscono la guardia del corpo del sovrano, sono responsabili dell'amministrazione e della giustizia in sua assenza. Ecco, il sovrano doveva continuamente spostarsi per controllare, del resto però non gli era possibile controllare tutto questo impero vastissimo da solo, e per questo motivo aveva i missi dominici, che erano i messaggeri imperiali, che dovevano girare per l'impero e controllare che le leggi venissero rispettate. Molto più importanti delle contee sono le marche. Ecco, le marche sono di meno, mentre abbiamo detto che le contee sono circa 200. Le marche si contano, si può dire, sulle dita di una mano, nel senso che sono le zone di confine. I marchesi quindi sono più importanti dei conti, sono dei signori che reggono questi stati, un po' a cuscinetto questi stati che sono ai confini, quindi sono fondamentali. Lungo queste marche si trovano fortificazioni e guarnigioni che forniscono una sorta di esercito stabile, pronto a reagire ad eventuali invasioni. Abbiamo già parlato infatti della marca avarica, quando sconfigge gli avari, poi dopo crea la marca avarica. La marca spagnola, che fu il baluardo della difesa contro le incursioni saracene. E' quindi fondamentali le marche, e importantissimi i marchesi. Abbiamo anche spiegato chi sono i missi dominici. Ribadiamo, ecco, i missi dominici, inviati del Signore. Noi che conosciamo il latino sappiamo che missi è mitomittis, misimissum mittere. I mandati, letteralmente, i mandati del Signore dominici è un aggettivo, è un attributo. Generalmente erano in coppia. Un laico e un ecclesiastico, scelti tra vescovi, abati, duchi, conti, avevano svariati compiti. Dovevano diffondere i capitolari, le leggi e le ordinanze. E anche, come dire, le convocazioni degli eserciti. Ricevono i giuramenti di fedeltà all'imperatore e prestano il servizium regis, cioè un contributo militare obbligatorio, il servizium regis. Queste sono tutte parole importantissime per capire, insomma, per capire questa organizzazione dell'impero carolingio. È arrivato il momento, però, adesso, di parlare del vassallaggio, cioè del legame particolare che si crea fra il conte, il signore, eccetera, il marchese. In generale, chi ha delle responsabilità è il sovrano. C'è un rapporto, c'è un legame personale. Praticamente tutta l'organizzazione dell'impero carolingio è fondata su legami personali. Questi legami personali, a fondamento dello Stato, erano gli unici possibili in quel contesto storico. In altri contesti, diciamo che sono una degenerazione, diventano stagnazione della società. Per esempio, stiamo studiando i Promessi Sposi e vediamo che i legami personali, ad esempio, quelli fra il signorotto e il podestà, tra il signorotto e l'avvocato, eccetera, rappresentano una degenerazione della società. Oppure, pensate adesso al clientelismo, il clientelismo mafioso, per esempio, che c'è ancora, o la degenerazione della politica ai nostri tempi, dove purtroppo, appunto, c'è questo clientelismo, c'è questi rapporti, questi legami personali che vanno al di là di quelle che invece sono il bene comune e sono le leggi e l'interesse di tutti. Però, all'epoca, all'epoca di Carlo Magno, ecco, questo legame era importante. Diciamo che è un pochettino anche di ascendenza germanica, questo tipo di legame, no? Nel senso che era un po' nella cultura e nella tradizione dei germani. Ricordiamoci sempre che i franchi sono dei germani, sono dei barbers, insomma, in buona sostanza. Ecco, allora, il legame avviene essenzialmente in questo modo. L'imperatore dà al feudatario un feudo, concede un feudo, però, in cambio, ottiene da questo feudatario fedeltà, aiuto in guerra, aiuto a gestire le terre e così il feudatario diventa, nello stesso tempo, vassallo e nobile. Quindi, vassallo, nei confronti del signore, del re, ecco, è praticamente suo fedele. Ecco, il vassallaggio, infatti, deriva dal latino vassus, che vuol dire giovane servitore. Nei confronti, però, del suo territorio e degli altri, è un nobile, un marchese, un conte, eccetera, no? Ecco, quindi dicevamo, all'inizio, semplicemente, il feudatario è un soldato che guida delle milizie e che in questo modo aiuta l'imperatore. È valoroso in guerra. Poi, però, col tempo, uno potrà comprarsi il feudo, invece che ottenerlo con le sue imprese belliche, militari. La cerimonia dell'investitura prevedeva un atto di sottomissione, l'omaggio. Il futuro vassallo si inginocchia davanti al signore e pone le mani nelle sue. La formula di omaggio pronunciata era, Sire, sono il vostro uomo. Ecco, poi c'è un giuramento di fedeltà. Il carattere sacro è dato dal giuramento di fedeltà, pronunciato tenendo la mano destra sul Vangelo. A questo punto il vassallo, che si è sottomesso, che ha giurato fedeltà, eccetera, ottiene dal signore il beneficium, cioè il feudo, quindi il feudo, infatti, è il territorio. Il beneficio ricevuto dal vassallo è solitamente un feudo. Quindi il 90% delle volte è un terreno, un territorio, ma potrebbe anche essere una carica, un diritto, un privilegio, eccetera, no? Quindi dipende dal rapporto di vassallaggio che si instaura fra il signore e il vassallo. Nel Medioevo il vassallaggio è un rapporto di dipendenza personale che lega un uomo libero a un signore mediante un giuramento di fedeltà, comporta il reciproco aiuto, la protezione del vassallo da parte del signore. Infatti il signore promette protezione in cambio di tutto ciò che il vassallo gli concede. Ecco, qui abbiamo una mappa concettuale di alcuni concetti importanti, ma io ho maledizione, ero convinto di aver messo un'immagine che invece non c'è. Le differenze tra l'impero carolingio e l'impero romano d'Occidente. Niente, queste allora le vediamo sul libro perché non sono stato in grado evidentemente di inserirle nelle slide. Facciamo così, mettiamo questa cartina anche se riguarda un argomento che faremo dopo. Quali sono le differenze tra l'impero carolingio e l'impero romano d'Occidente? Allora, anzitutto, nell'impero romano i territori dell'impero avevano come fulcro il bacino del Mediterraneo, mentre invece il sacro romano impero si estende in tutta quanta l'Europa continentale e centro settentrionale. L'impero romano è una forte unità statale. Al contrario, invece, il sacro romano impero è una federazione di stati che momentaneamente, sotto l'autorità di Carlo Magno, riescono ad essere abbastanza uniti fra di loro. Nel momento in cui, poi vedremo, insomma, c'è la successione a Carlo Magno, questa unità viene meno. Nell'impero romano c'è un'unica legislazione valida per tutti i cittadini, mentre invece nel sacro romano impero sono diversi i sistemi legislativi a seconda dei vari popoli. L'impero romano è basato sulla città, è una società urbana, mentre il sacro romano impero è basato sulla campagna, è una società rurale. Infatti i centri di potere sono in campagna, dove vanno questi feudi, volevo dire questi vassalli, a reggere il loro feudo. Nell'impero romano, dal punto di vista economico, molto fiorente, c'erano scambi commerciali, si utilizzavano monete d'oro e d'argento. In questo periodo, invece, prevale il baratto nelle campagne, anche se, come vedremo, cerca in tutti i modi di recuperare, diciamo così, per esempio, l'utilizzo della moneta. Non quella d'oro, che non era più possibile, ma almeno quella d'argento, Carlo Magno. L'impero romano era caratterizzato all'inizio da una religione tradizionale pagana e poi dal cattolicesimo. Il cattolicesimo diventa, invece, un elemento di coesione sin dall'inizio della fondazione, insomma, di questo impero, sacro romano impero. Bene, dicevamo quindi che parlavamo del rapporto di vassallaggio fra Carlo Magno e i conti, eccetera. Era un rapporto di natura privata e rischiava quindi di minare l'autorità centrale, per cui Carlo cercò di regolare questo rapporto. Per esempio, disse che i vassalli non potevano organizzare autonomamente eserciti privati, se non appunto per venire in aiuto e soccorso delle esigenze dello Stato. Insomma, c'era una dinamica che Carlo Magno riesce, un po' a fatica anche, a tenere sotto controllo e che poi nel periodo seguente invece verrà un po' meno. Ecco, un'altra parola chiave nel vassallaggio è la parola omaggio. Tenete presente che la parola omaggio deriva da homo hominis. Pertanto il vincolo fra, insomma, il signore e il suo vassallo è un vincolo, appunto, dicevamo, personale. Ecco, stavamo parlando prima della rete amministrativa e burocratica dell'impero, attraverso la quale cerca di tenere sotto controllo il suo vasto impero Carlo Magno, la convocazione degli eserciti, eccetera, di cui abbiamo parlato prima. Sono tutti gli elementi attraverso i quali cerca di tenere sotto controllo la situazione. La fellonia è la violazione del patto, di questo patto personale che è alla base del vassallaggio. Il feudo all'inizio è vitalizio, cioè il re dà il feudo a questo signore, dopodiché, una volta che questo signore muore, il feudo ritorna nelle mani del re. Beh, questo però molto teoricamente, perché di fatto poi, quando muore il signore, fa in modo tale che, insomma, i suoi figli possano continuare, in particolar modo il primogenito, questo poi è un po' alla base anche della questione dei primogeniti e dei cadetti, cadetti sono i figli non primogeniti, che quindi poi saranno costretti a fare altro, magari a fare i cavalieri, no? Ma il signore cerca in tutti i modi di rendere ereditario il suo feudo. Si può dire da questi primi decenni, ecco, del Sacro Romano Impero. Finché è vivo Carlo Magno, lui cercherà sempre di far capire a questi signori che il potere è in mano sua e quindi può riprendere ed effettivamente riprese dei feudi, una volta morti questi suoi comites, questi suoi conti marchesi, eccetera, e per poi assegnarli magari ad un altro signore, no? Con i quali voleva stabilire un altro patto di vassallaggio, eccetera. Ma di fatto, subito, questi signori cercarono di rendere ereditario questo feudo. Poi lo studierete comunque anche l'anno prossimo, con il professore che avrete l'anno prossimo, questo rapporto, insomma, costituzzo dei feudi, insomma, l'atto con cui i feudi, prima i feudi maggiori, e poi i feudi minori diventarono ereditari. Parliamo adesso invece un po' dell'economia durante l'impero di Carlo Magno. Ecco, allora abbiamo già detto una cosa importante, cioè il fatto che lui cercò di coniare monete d'argento perché sperava, pensava, sperava in questo modo, di far rinascere il circuito economico. Perché le monete d'argento erano le più facili di gestione rispetto alle monete d'oro e questo poteva essere un elemento di ripresa dell'economia. Poi ancora, istituì delle fiere, periodiche riunioni in cui si potevano incontrare mercanti e acquirenti. Una delle sue leggi più importanti fu il capitolare de Villis. Capitolare, abbiamo detto, quindi vuol dire legge fatta dall'imperatore, riguardo a Villis. Villaville, cioè le residenze di campagna, che poi col tempo diventarono le Curtis e quindi le proprietà dei signori. Ecco, infatti attraverso questo capitolare si gestivano le grandi aziende curtenzi, di cui parleremo venerdì, quando spiegheremo meglio l'economia durante il feudalesimo. cercò di porre un freno alla speculazione delle derrate alimentari, nel senso che i prezzi spesso erano alti e quindi lui cercò di imporre prezzi massimi dei beni di prima necessità. Perché c'erano frequenti e ricorrenti carestie, soprattutto nei periodi di carestia, i prezzi dei beni alimentari salivano alle stelle. Cosa facevano generalmente i signori? Accumulavano grandi quantità di beni alimentari, li conservavano e poi li rivendevano a prezzi esorbitanti nei periodi di carestia. Poi fece delle iniziative contro il prestito a usura e lo strozzinaggio, che erano molto in vogue, diciamo, all'epoca. In generale, poi vedremo anche l'anno prossimo, quando studieremo Dante, in generale nell'età medievale l'usura e lo strozzinaggio erano quasi la regola. Ma la cosa più importante che fece, quindi abbiamo un po' parlato dell'economia, la cosa più importante che fece Carlo Magno fu quella di cercare di riprendere la rinascita carolingia, di riprendere il discorso della cultura dell'istruzione che era stato forzatamente interrotto a causa delle invasioni barbariche e dei secoli di guerre che precedono la formazione del Sacro Romano Impero. Quindi, là dove c'era quel palazzo di Aquisgrana che abbiamo visto prima, nei pressi, istituisce anche una scuola palatina, cioè una scuola del palazzo reale, e che poi ci sia non solo quella scuola, ma anche altre scuole presso altri palazzi, presso altre città, quindi che ogni città possa avere la sua scuola. generalmente queste scuole erano poste presso le cattedrali, quindi le chiese principali delle città, dove c'era la cattedra, cioè la sedia sulla quale appunto si sedeva il vescovo. Ma la più importante di tutte, abbiamo detto, è la scuola palatina, quindi la scuola di Aquisgrana. Tra l'altro chiama qui per insegnare in questa scuola Alcuino. Alcuino era un monaco anglosassone. Era risaputa la sua cultura, il suo sapere. Lui lo chiamò per istruire anzitutto i suoi figli, e poi piano piano diventò Alcuino un punto di riferimento per Aquisgrana in generale, perché non solo i suoi figli, ma anche tutti i nobili, ad esempio, e i figli dei nobili più eminenti, si formarono a questa scuola palatina. Ecco, diede impulso alla copiatura dei testi antichi. C'era un problema però. Nella copiatura, anche ricordate gli amanuensi di cui abbiamo parlato quando abbiamo spiegato il monachesimo, ognuno si, come dire, utilizzava un modo di scrivere diverso dall'altro, a seconda spesso delle zone e delle regioni. Lui invece cercò di unificare il modo di scrivere e di copiare. Dovevano utilizzare tutti dei caratteri che erano quelli della minuscola Carolina. La minuscola Carolina aveva questa caratteristica. Era uno stile di scrittura chiaro, comprensibile, più veloce rispetto agli altri stili di scrittura. Poi, istituisce delle biblioteche. Abbiamo detto già le scuole. Ecco, laici ed ecclesiastici potevano, come dire, essere iscritti, insomma, partecipare a queste scuole. A dire la verità, comunque, in questo periodo, soprattutto la formazione culturale riguarda gli aristocratici e quindi i chierici. Però, ripeto, anche alcuni, magari, figli di signori possono permettersi di frequentare queste scuole. In queste scuole si impone lo studio soprattutto di sette materie che vengono chiamate le sette arti liberali, cioè le sette arti di un uomo libero e quindi di un uomo che può dedicarsi all'attività intellettuale a differenza, ad esempio, dei contadini o di altre persone che sono costretti nella vita a lavorare e non possono dedicarsi alla cultura. Quindi abbiamo tre arti del trivio che sono di carattere, diciamo, umanistico, che sono la dialettica, la grammatica, la retorica e quattro del quadrivio di carattere, tra virgolette, più scientifico che sono la musica, l'astronomia, l'aritmetica e la geometria. E questo un po' condizionerà tutto quanto il Medioevo, nel senso che queste arti del trivio e del quadrivio saranno, appunto, le materie poi insegnate in tutto quanto il periodo del Medioevo. Ma abbiamo già detto, soprattutto per il clero, l'analfabetismo era molto diffuso, invece, verso il popolo, scusate, era molto diffuso tra il popolo e solo pochi si possono permettere di studiare, solo pochi si possono permettere di possedere manoscritti. infatti, anche il libro, il manoscritto, insomma, era un bene di lusso, possiamo dire. Solo una ristretta cerchia di individui poteva usufruire di queste agevolazioni, insomma. Ecco, che cosa avviene dopo la morte di Carlo Magno? Carlo Magno muore nell'814. Il suo impero, che era così unificato, ma, ripeto, unificato dalla sua persona. Aveva già in sé germi di frammentazione, germi di divisione, insomma, interna. E questi aspetti, questi elementi vennero ancora più in luce alla morte dell'imperatore. L'erede di Carlo Magno, ecco, perché lui aveva parecchi figli, ne ha avuti tantissimi di figli, tra l'altro, Carlo Magno. Quasi tutti muoiono, però, prima di lui. L'unico erede rimasto in vita è Ludovico, detto il Pio per la sua religiosità. Ludovico il Pio, però, non ha assolutamente lo stesso carisma di Carlo Magno e quindi c'è il problema della successione al trono. Secondo la tradizione franca, i territori dell'impero avrebbero poi dovuto essere suddivisi in base ai figli di Ludovico il Pio, che aveva più figli. È la legge salica, che tra l'altro creerà dei problemi anche nella storia successiva, nei secoli successivi. Infatti, l'impero era comunque considerato una sorta di possedimento privato del sovrano che quindi andava, come si accadeva anche per gli altri, andava poi suddiviso ai figli. Allora, nell'817, tre anni dopo essere diventato imperatore, Ludovico il Pio emanò l'ordinazio imperi, la costituzione dell'impero, con cui si affermava l'unità dell'impero, associava al trono il figlio lotario e affidava ai figli Pipino, Ludovico Germanico, i regni di Aquitania e di Baviera. Sì, Pipino perché è come il nonno, sì perché ricordate che Pipino il Breve era il padre di Carlo Magno e questa è la dinastia dei Pipini chiamata anche così. Ecco però, lui diceva l'impero doveva essere unito, unificato sotto l'otario e quindi Pipino, Ludovico Germanico dovevano riconoscere l'autorità del fratello. Ecco, di fatto però abbiamo già detto che Ludovico il Pio non era in grado di mantenere comunque questa unità e nell'829 lo stesso Ludovico il Pio concesse alcuni territori che appartenevano a Pipino e Ludovico al figlio di secondo letto Carlo secondo detto il Calvo di appena sei anni. Ecco, questo atto di Ludovico il Pio creò una specie quasi di lotta interna quasi di guerra civile tra questi suoi successori ecco si trattò di una guerra anche piuttosto cruenta questa guerra condusse poi nell'841 alla battaglia finale la battaglia finale avvenne nei pressi di Oxer nell'attuale Belgio in questa battaglia l'otario l'otario primo fu sconfitto e quindi l'otario primo che era il figlio di Ludovico il Pio che nel progetto di Ludovico il Pio doveva mantenere unito unificato l'impero fu sconfitto in questa battaglia e dovette concedere quindi a Carlo il Calvo e a Ludovico il Germanico una totale autonomia e indipendenza nei loro territori lui l'otario primo si tenne il territorio centrale quello dove c'era appunto la città di Aquisgrana adesso non la vediamo in questa cartina Aquisgrana e a nord di questa striscia una striscia centrale che andava appunto dicevamo insomma dalle regioni appunto dei paesi bassi del Belgio attuale giù 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 fino all'Italia centrale tenete presente e ricordatevi che ormai lo stato della chiesa lo stato pontificio è del tutto indipendente rispetto a insomma al sacro romano impero invece Ludovico il Germanico aveva insomma potere come vedete su gran parte dell'attuale Germania e Carlo il Calvo di fatto sulla gran parte dell'attuale Francia volevo dire poi c'era tutta una serie di stati tributari che erano la Bretagna in Francia la marca spagnola quindi praticamente la Catalogna abbiamo detto la volta scorsa diciamo in Spagna poi Sorbi Boemi Croati tutta una serie di stati dove c'è appunto anche la marca avarica di cui vi ho parlato prima potete vedere comunque c'è la cartina sul vostro libro di questa suddivisione dell'impero questa suddivisione viene sancita nell'842 col giuramento di Strasburgo è molto importante questo giuramento di Strasburgo perché testimonia di come ormai la gente non si capisse più all'epoca perché le persone ormai usavano di fatto non più il latino a proposito ci siamo dimenticati di dire che con la rinascita carolingia Carlo Magno cercò di riportare in auge appunto l'utilizzo del latino ma di fatto appunto in Francia si parlava una lingua romanza ormai un dialetto che è il francese antico o provenzale anche mentre in Germania un dialetto che è praticamente alle origini dell'attuale lingua tedesca e quindi quando loro scrissero questo giuramento lo fecero l'uno nella lingua cioè nella propria lingua e poi però lo scrissero anche nella lingua dell'altro in modo tale che l'altro capisse quello che stava firmando in un certo senso e quindi i tre Carlo Il Calvo Lotario I e Ludovico Germanico firmano insomma questo giuramento di Strasburgo un patto di alleanza che è anche preziosa testimonianza di come ormai la lingua stesse cambiando si stesse modificando radicalmente all'epoca un anno dopo il giuramento di Strasburgo viene sottoscritto il trattato di Verdun che sancisce definitivamente la divisione dell'impero carolingio all'Otario fu assegnato il titolo imperiale un titolo che però rimane solamente onorifico una striscia di territorio che va dalla foce del fiume Reno fino al Tevere ricordate che poi insomma nell'Italia meridionale c'era ancora il Ducato di Benevento che siccome c'era stato un trattato di alleanza era rimasto ai duchi longogardi precedenti poi c'erano ancora in alcune zone i bizantini poi in Sicilia arriveranno i saraceni certo quindi l'impero arriva fino all'Italia centrale non riguarda l'Italia meridionale a Ludovico vanno i territori ad est del Reno a nord delle Alpi ovvero l'attuale Germania a Carlo e Calvo i territori occidentali dell'impero corrispondenti all'attuale Francia a ovest del Rodano nel trattato di Verdun anche i contemporanei videro un impero che perse insieme il nome e la gloria bene questo riguardo allo studio di questo capitolo non so avete delle domande da fare su questo capitolo ecco mi ero preparato un po' questo come